la pellicceria Annabella di Pavia vi invita alla visione del bollettino meteorologico ricordate che le prestigiose pellicce Annabella sono in vendita solo ed esclusivamente nella sede unica di Pavia eccoci nuovamente assieme amici per il bollettino meteorologico che come ogni sera vi è presentato dalla pellicceria Annabella di Pavia e da Telemonte Carlo la situazione delle prossime 24 ore dell'aria fredda di origine continentale influenzerà domani in modo particolare le nostre regioni adreatiche il barometro Annabella ci informa che la temperatura minima di oggi di due gradi è stata pervenuta a Torino mentre la massima di 15 invece a Palermo ed ora vorrei seguire assieme a voi altre temperature di città italiane tempo previsto per domani sulle regioni nord occidentali su quelle dell'alto del medio terrenico e sulla Sardegna nuvolosità variabile con possibilità di qualche isolata precipitazione che oltre i 500 metri di quota potrà essere nevosa sulle rimanenti regioni nuvolosità è regolare temporaneamente molto intensa e accompagnata da precipitazioni che al sud potranno essere temporalesche temperatura stazionaria sui valori molto bassi venti generalmente settentrionali con rinforzi sulle venezie sulla Liguria e sulle regioni meridionali mari da mossi a molto mossi passiamo ora alla nostra cartina della neve in Val d'Aosta a Cerdinia un minimo di 120 centimetri un massimo di 145 centimetri a Cormaier 145 275 in Piemonte a Limone 110 150 a Sestrier 70 90 in Lombardia a Bormio 70 100 a Ponte di Legno 15 40 ad Aprica 30 160 a Chiesa Valmalenco 100 115 a Madesimo 30 170 nel Veneto a Cortina 20 70 nel Trentino a Madonna di Campiglio 70 180 nell'Alto Adige ad Ortisei 20 70 in Toscana la Betone 40 140 a Cotigliano 20 60 nel Lazio al Terminillo 20 50 in questi giorni una grande novità Annabella vi propone un sogno di fine inverno i visoni firmati Annabella un'offerta eccezionale i visoni più belli del mondo Annabella i visoni firmati Annabella a quotazioni veramente eccezionali Annabella Annabella una belliccia una firma Annabella vi attende graditissimi ospiti a Pavia e naturalmente la pelliceria Annabella di Pavia vi aspetta domani sera per un altro bollettino meteorologico sempre su Telemonte Carlo europeo i i e Grazie a tutti.